Sul balcone da cui la regina Elisabetta di Ghilterra festeggerà il suo settantesimo anniversario sul trono, il prossimo 2 di giugno, spiccheranno gli assenti. Primo fra tutti il principe Andrea, coinvolto in scandali sessuali legati alla figura di Jeffrey Epstein. Saranno assenti anche Meghan e Harry, dopo lo strappo dalla famiglia reale. I duchi di Sussex saranno presenti ai festeggiamenti, senza però partecipare alla cerimonia ufficiale.